Se hai scelto di stare con me, stai con me. Anzi, forse avrebbe dovuto farlo lei prima perché tu lo chiedessi. Io mi aspettavo che era proprio lei che mi diceva queste cose. E perciò lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. Pure perché io la conosco. Però io già nel villaggio avevo capito che c'era qualcosa che non andava, ma c'ero passato sopra perché era più forte il desiderio di stare con lei che quello di andare a litigare per un'altra persona. Io al falò di Stefano. Non ne ho mai parlato, non gli ho detto nulla. E' quello è stato il problema. Ma che io ti attaccavo e ti attaccavo a fare, che io volevo stare con te solo per criticarti. Posso parlare o non so se vuoi parlare solo tu? No, vai, parla. Grazie. Allora, parto dal presupposto che quando io ti dico, io non sto scegliendo tra Alfonso e Stefano, io non ti lascio perché sto scegliendo. Io scelgo me stessa. Poi Stefano viene dopo, nel senso, siamo stati nel villaggio. No, però mi devi far parlare. Ma sei contrappola. No, però mi devi far parlare. Mi devi far parlare. Almeno ascolta e poi dopo rispondi. Perché se no... Ti aveva ascoltato un sacco di cose. No, non hai ascoltato mai. Purtroppo questi sono i nostri discorsi. Questo andavamo a finire sempre. E a questo ritornavamo. Perché nella reazione che poi tu hai anche detto e che ho sentito nella puntata, la gelosia ti andava a calare. E so il tempo d'acqua Federica. Grazie. Ma i dubbi crescevano. Grazie. 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 Grazie.